Buongiorno a tutti e bentrovati. Il concetto soggettivo è l'insieme delle leggi che regolano ogni atto del pensiero. Invece, il concetto oggettivo è l'insieme delle categorie che strutturano la realtà e, in particolar modo, il mondo naturale. Il termine oggettivo non va inteso nell'accezione platonica, cioè come una realtà esterna alla mente, bensì rimanda al fatto che il mondo possiede un ordine, indipendentemente dalle nostre rappresentazioni. Dunque, il concetto oggettivo è la struttura logica della realtà e si suddivide in meccanismo, chimismo, teleologia. Il meccanismo rinvia a un'immagine del mondo costituito da oggetti a sé stanti, indipendenti gli uni dagli altri, che esercitano una pressione su oggetti vicini e subiscono una pressione da parte degli oggetti vicini. Urtano e vengono urtati. Di conseguenza, la relazione che si instaura fra oggetti diversi è una relazione puramente meccanica, una relazione esterna. Poi si passa al chimismo, che si occupa dell'interazione fra sostanze diverse che è destinata a generare nuove realtà. Anche in questo caso, la relazione che si instaura fra queste sostanze è una relazione puramente esterna. Perché? Perché la forza che è alla radice di queste combinazioni, di queste trasformazioni, è una forza esterna. Infine, si passa alla teleologia, dal greco telos, che vuol dire scopo, che studia la finalità interna alla natura, ovvero le cause finali che sono alla base dei processi di crescita, di sviluppo, di conservazione degli organismi. Ora, questi rapporti definiscono le dinamiche del reale a tutti i livelli e non solo in ambito fisico. Ad esempio, il meccanismo è l'oggetto in quanto unità non risolta di differenti. E quindi può essere la chiave di lettura per spiegare la religiosità puramente formale, cioè una religiosità fatta di riti, di abitudini, priva di una partecipazione interiore, priva di un'adesione profonda, convinta, motivata. Oppure può essere la chiave di lettura per spiegare un sapere meramente nozionistico, cioè un sapere frutto ed espressione di un immagazzinamento passivo di dati, privo di una adeguata rielaborazione. Oppure può essere ancora la chiave di lettura per spiegare il concetto di popolo, concepito come mero aggregato di individui senza un collante ideale, senza un orizzonte comune e condiviso. L'ultima sezione della logica riguarda l'idea, cioè la sintesi di concetto e di oggettività. L'idea è il concetto vivente, la razionalità vivente. In altre parole, l'idea è il concetto che si manifesta e si realizza in forme concrete. I tre livelli dell'idea sono la vita, il conoscere, l'idea assoluta. La vita è il principio vitale che organizza in un tutto unico le varie parti che compongono un corpo vivo. Poi abbiamo il conoscere, che è la riunificazione di soggettivo e di oggettivo, mediante l'attività teoretica fondata sull'idea del vero, che accoglie in sé il mondo esistente, e mediante l'attività pratica fondata sull'idea del bene, che modella il mondo oggettivo in modo che risponda alla moralità. logica. Si perviene, infine, all'idea assoluta, che è il punto supremo e il compimento della logica. L'idea assoluta è l'idea che pensa se stessa, cioè il concetto che si è autorealizzato pienamente, e la totalità dei momenti di questa realizzazione. In ultima analisi, l'idea assoluta è la totalità delle categorie della logica e dei loro onessi dispiegati. Grazie a tutti, alla prossima!